Tiny Scuola nasce nel 2013 da una necessità, quella di sperimentare nuovi strumenti per la didattica. Tutto è iniziato offrendo ai miei studenti del materiale di studio che fosse loro disponibile al di fuori del rigido orario delle lezioni. Nel 2016 ho iniziato a raccogliere le video lezioni su YouTube perché questa piattaforma era la più funzionale per le mie esigenze. Nel corso del tempo ho notato l'interesse che molti hanno mostrato per il mio materiale e ho iniziato a pensare di renderlo disponibile a tutti. Per passare da una pubblicazione per pochi studenti a una rivolta a tutti è necessario fare un grande sforzo di revisione per assicurare la qualità e la tendibilità necessarie. Per questo motivo da più di un anno non ho pubblicato nuove lezioni ma mi sono dedicato a migliorare il materiale che già disponevo nel tentativo di renderlo migliore e più efficace. Non so se ci sto riuscendo ma mi sto impegnando a questo fine. Da oggi Tiny Scuola si apre a tutti coloro che vorranno seguire i miei corsi. Chiunque potrà iscriversi e usufruire del materiale prodotto partecipando attivamente al suo miglioramento. Video lezioni, contenuti teorici, illustrazioni originali, esercitazioni e testi di autovalutazione sono fruibili attraverso la più diffusa piattaforma di apprendimento a distanza, Moodle. Vi invito a provarla e a contribuire al suo miglioramento impegnandomi da parte mia a fare quanto nelle mie capacità per assicurarvi del materiale affidabile.